Ciao ragazzi, in questa bellissima scatola c'era il mio meraviglioso piumino di Dreaming 101. Guardate che spettacolo, il colore l'ho scelto azzurro perché come potete vedere la camera è sul grigio e quindi questo è un colore che ci sta benissimo. Vi arriva dentro questo sacco di cotone e quindi lo potete poi riporre una volta utilizzato e quindi rimarrà traspirante e lo potete proteggere. Cosa vi volevo dire di questo piumoncino tra puntino? Vi volevo dire che è leggero perché è sottilissimo, guardate, però vi posso assicurare che tiene un caldo spettacolare. Cioè una volta intrati nel letto dopo pochissimi secondi si inizia già a sentire il tepore. Quindi va benissimo adesso per la primavera. Sono cotoni pregiati, sono lavorazioni artigianali, come dico io promuoviamo sempre il Made in Italy. Questa è un'azienda che ha dei prezzi concorrenziali proprio perché fabbricano loro tutti i loro prodotti compreso questo tra puntino meraviglioso che potete trovare anche in giallo. Quindi cosa vi volevo dire? Io sono super soddisfatta e contentissima. Il mio piumino io lo amo e lo adoro. È morbido veramente e poi poco leggero come non sentire, però il calore lo sentirete tutto. E poi arriva dalla mia camera. Quindi ringrazio Dreamy101 anche per la lettera che mi ha mandato, profumata, quindi ringrazio. E vi farò vedere naturalmente poi via via l'utilizzo di questo piumoncino e tante foto, tanti video. Insomma mi sapete benissimo di me che sono una persona abbastanza attiva e vivace. Quindi grazie Dreamy101 e mi raccomando vi lascio il link per poterlo acquistare. Questo e tantissimi complimenti. Per le mamme volevo dire che fanno anche tante cose carinissime per i bambini, per le camerette, quindi cuscini, lenzuolini e trapuntini anche per i bambini. E quindi siccome sono prodotti di qualità e artigianali e quindi con tutta la sicurezza del caso, io vi consiglierei di dare un'occhiata. Ciao a tutti e a cucina mo' prurina.